Ciao, sono Thomas Renda e benvenuti a Cipper TV. Vi trasmetto la mia box CrossFit Bareggio e oggi vi listerò al workout di lunedì. Come prima cosa abbiamo 3 back squat in modalità heavy. Come andremo a scaldarci? Partiremo dal 50% del nostro massimale, facciamo 5 colpi, prima andiamo ad attivarci, chiaramente, con la bike on row 5 minuti, lavoriamo con gli elastici per scaldare soprattutto i nostri quadricipiti e i nostri femorali. Andiamo a scaldare anche la schiena con 3 serie di Good Morning con l'elastico e back squat aiutandoci sempre con gli elastici. Andremo a fare 5 serie di petizioni con un elastico leggero, 5 serie di petizioni con un elastico pesante. Per arrivare a cercare il nostro 3 RM o lavoro pesante con il back squat, andremo a fare 5 colpi con il 50% del nostro massimale, 4 colpi con il 60%, da 70% in poi andremo a fare 3 ripetizioni. Adesso vi andrò a illustrare il workout di oggi. 50. 50 box jump, 50 jumping pull up, 50 cat tab swing, 50 walking lounges, 50 toes to bar, 50 push press, 50 good morning, 50 wall ball shots, 50 barpees, 50 double under e 400 run. I pesi li trovate qua a fianco. Buon allenamento!